Albino Leffe e Reggiana, una partita strategica per tutti. I padroni di casa gonfiano la rete nel primo tempo e poi non ce n'è più per nessuno. Al novantesimo scatta la gioia dei bianco scudati. La squadra riunita alla guizza festeggia e i tifosi scendono in strada. Clacson, bandiere e cori. In Prato della Valle e per le vie della città la gioia è moltissima. Dopo quattro anni passati a ricostruire passo dopo passo la squadra ora finalmente ecco giungere la giusta ricompensa ai tanti sacrifici. Quella di questa sera è una vittoria storica per i bianco scudati che per la prima volta dal 1910 vincono un campionato fuori dal campo. È stata la matematica a decidere il verdetto a due giornate dalla fine. Così con la Reggiana fermata a 51 punti si chiudono le speranze di rimontare i bianco scudati a quota 59. Grande gioia e soddisfazione da parte dei vertici per una promozione desiderata e ora acciuffata. E ora si va in Serie B. Sfisciamar Channel News, Padova.